Sta per cominciare l'avventura in Coppa Italia Team per la Pistoiese. Domani gli arancioni sfideranno nel primo turno eliminatorio la Juve Stabia, ore 20.30 a Rome Aumenti di Castellammare di Stabia, visto il miglior piazzamento delle Vespe nel tabellone del torneo. Sarà una gara unica, in caso di parità si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi vincerà affronterà nel turno successivo l'Ellas Verona. Per quanto riguarda la formazione arancione, il mister Paolo Indiani dovrà rinunciare agli attaccanti Latte Latte e Fanucchi infortunati. Per il primo si parla di una leggera distorsione alla caviglia, mentre per il secondo un affaticamento muscolare. Non ci saranno nemmeno i difensori Nossa e Scalera squalificati. In porta potrebbe avere la meglio Crisanto rispetto a Meli, prevedendo una difesa a quattro con Muscat, Dossena, Terigi e Cagnano, quella che il tecnico ha sperimentato durante questa prima fase di preparazione e un centrocampo con Amlili, Vitiello e Luperini. In attacco unica soluzione Cellini, supportato da Minardi e Regoli. La Juve Stabia dovrebbe opporsi con un 4-3-3 ormai classico della squadra di Fabio Caserta. Che partita si aspetta? Che avversaria si aspetta? Innanzitutto soddisfazione di farla questa partita, perché se facciamo questa partita il 29 di luglio è perché abbiamo fatto un buonissimo lavoro l'anno passato. Ci tocca questa Juve Stabia, è una delle migliori sicuramente della sci dell'anno scorso, che è arrivata nei quarti di finale dei play-off. Sono rimasti gli stessi, sia come tecnico, sia come organi, così che sappiamo che è una gara molto molto difficile. Però da questo punto di vista va bene, perché sicuramente ci darà delle azioni molto importanti su quello che siamo noi. Le mancanze sono tutte nel reparto offensivo e lì siamo a minimi termini e conseguentemente andremo con i minimi termini. La Juve Stabia è una squadra forte, è una squadra che ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno. Cosa le fa più paura di questa squadra? Cosa le preoccupa di più? Paura no, mi preoccupa perché è una squadra forte, ma ripeto, a questo livello andiamo a facciamo la team cup o sei arrivato secondo, terzo, gioio, una di in casa, se no altrimenti, lo sappiamo, arrivando a decimo e noi andavamo fuori con una delle migliori. D'altra parte è così, è giusto sia o sì, è bello sia o sì, però occupare paura è niente, però nel stesso tempo rispettiamo perché sono una squadra veramente forte. Della sua squadra cosa invece vorrà vedere? Voglio vedere quello che ho detto in confronto a una squadra veramente forte a che livello di punto siamo, a che livello di preparazione siamo, che miglioramenti abbiamo fatti, a che livello di apprendimento siamo su quello che fino ad ora abbiamo proposto. Che punto è della preparazione questa pistoglia? Il punto giusto dopo 15 giorni, è il punto giusto dopo 15 giorni. è chiaro, io credo, spero, e se non vinto anche la Juve Stavia siamo noi da questo punto di vista, ecco, lì sì, sicuramente saremmo alla pari. Passare questo suono cosa significherebbe? Sarebbe molto bello, sarebbe veramente la soddisfazione, ecco, buon campionato l'anno scorso, andare a giocare al 20 Codio dentro il Verona, credo sarebbe una cosa per Pistoia verrebbe ricordata. Auguriamocelo!